L'alta paga di un parlamentare, l'immunità parlamentare, adesso ne cito un altro, erano strumenti per proteggere il parlamentare povero della democrazia, perché altrimenti il notabile ricco avrebbe approfittato del suo potere economico, sociale, per poter tagliar fuori i partiti operai dalla politica. Poi è vero che la politica è anche la nostra, e parlo per la realtà genovese, sicuramente il mio partito, io questo non ho paura a dirlo, qualche d'uno che qua me l'ha sentito dire anche il quattro e uno del nostro partito, quando da partito di governo, di amministrazione ti trasformi in un partito di potere tu ti sei autodistrutto su quella cosa perché hai dato ragione a questa critica, però bisognerebbe tentare di costruire un rapporto anche di realtà, perché secondo me se la gente comprendesse, le persone comprendesse, le persone comprendessero che chi sta in consiglio criminale fa praticamente un'operazione, questa è la realtà, forse sarebbe anche chiamato a un rapporto di tipo diverso, io dico più sano.